ragazzi eccoci dallo stadio oggi live reaction tra curva nord ecco le formazioni perina il numero 19 il numero 21 il numero 7 il numero 16 il numero 25 tuttino il numero 9 il numero 10 a disposizione il salato il scoschettino maniero garretano il scoglio allenatore signor piero braglia merda la formazione pesca la stiamo attendendo forse ci ha ripensato Pillo perché non la dice ragazzi però partita tosta partita difficile braglia romperà le scatole il cosenza è una squadra che gioca a pallone stasera 3-4-3 in attacco Litteri assistito da tuttino e embalò ecco la formazione pescara raga godiamocela insieme godiamocela insieme godiamoci insieme questa formazione godiamoci insieme questa questa prepartita è una partita tosta è una partita tosta questa quindi noi siamo pescara dal 1936 orgogliosi della nostra storia fieri del nostro appruzzo e orgogliosi di essere pescaresi pescara calcio con il numero 1 Vincenzo Diorillo con il numero 14 Antonio Balzano con il numero 5 Andrew Gravion con il numero 6 Gennaro Scognamilio con il numero 23 Marco Berrotta con il numero 8 Ledia Memushai con il numero 20 Alessandro Fruno con il numero 25 Luca Greco con il numero 59 Manuel Marras con il numero 9 Caetano Monachello con il numero 26 Milko Anzalusci a disposizione Castrati del Grosso Capone Bellini Elizalde Pinto Bettella Meleboni Del Sole Ciofani Borrelli Sottil Allenatore Signor Giuseppe Pillon Bravo Grande mister Buena Si Buena 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 la Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. due minuti. ci stiamo... ci stiamo credendo. ci stiamo credendo. ci stiamo credendo. a tutti. ci stiamo credendo. 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 ragazzi è finita la partita è andata male è andata male perché non dovevamo pareggiarla se non vinciamo con il Cosenza non possiamo pretendere in una diretta purtroppo ma già lo sapevamo perché il Pescara è limitato già con Mancuso siamo limitati senza Mancuso siamo ancora più limitati oggi per dirla tutta c'era un calcio di rigore nettissimo il primo tempo per il Cosenza fallo di mano netto di Gravioni in area secondo tempo sulla falsariga del primo con loro che passano in vantaggio adesso non ho visto bene direttamente dallo stadio forse Fiorillo poteva fare qualcosa di meglio ha sbagliato la presa il rinvio, la palla è rimasta lì come a Cittadella è entrato e l'ha messa dentro poi il gioco del Cosenza fortunatamente poi ci ha pensato Gennarino Scognamiglio a fare il gol da punizione l'ha rimessa un altro tempo noi ultimamente siamo la squadra che segna più su punizione di testa è una statistica siamo la squadra che ha fatto più gol da colpo di testa in campionato quindi senza Mancuso fatichiamo anche a fare gol purtroppo uno a uno tutti a casa ci vediamo più tardi per il video vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al canale sempre forza Pescara e buona serie a tutti ciao